Bene, bene, bene! Atomic Betty! Finalmente! Infanto! Sapevo che prendendo qualche ostaggio saresti venuta da me. Siete pronti a giocare? No, noi non vogliamo giocare. Facci uscire e libera anche gli altri. Se volete salvare quelle persone, siete obbligati a giocare. Davvero? Gioca un po' con questo. Il tuo braccioletto risulta non funzionante in questo territorio. L'unico modo per uscire è vincere. Ma voi non vincerete mai perché sono io che ho programmato il gioco. Oh, forse ho dimenticato di avvisarvi chi perde viene distrutto.